E allora siamo ancora live qui dalla Stella Azzurra nell'intervallo tra Pizzaluigi e Capitolina in vantaggio di campione in carica del Pizzaluigi ma come detto oggi avremo questo ping pong tra campione femminile ci ha raggiunto il mister della gara che li vedrà tra pochissimo in campo le ragazze della Pro Appio e qui con noi Roberto Papa per l'appunto mister gara da dentro a fuori sconfitta l'esordio vittoria settimana scorsa, questo oggi bisogna allungare in classifica Sicuramente sì, cercheremo di fare il possibile per portare a casa il risultato positivo ce la mettiamo tutta, le ragazze sono cariche io confido nel gruppo, abbiamo cominciato piano piano la prima partita ad assestamento la seconda abbiamo fatto un'ottima partita e speriamo stasera di poter continuare la serie positiva Grazie mister, ci vediamo ovviamente a fine della vostra gara Va bene, ok